Maniera, tu rinnessa, il gobierno ha riunito con il sindicato, sicuramente per il weekend che è venuto con il sindicato di polizia, ma anche per il sindicato CIMAR. Il compagno, il sindicato non è venuto con il sindicato, ma anche per il sindicato non è venuto con il sindicato. Grazie per la visione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.